Mai mi sarei aspettato una sua chiamata sul cellulare, quindi è stata un'emozione indescrivibile, quindi non ci sono parole per raccontare quello che ho provato in quei momenti. Quando Michele ha sentito una voce al telefono che si è presentata dicendo «pronto, sono Papa Francesco», la prima reazione è stata l'incredulità, il primo pensiero che fosse uno scherzo. Poi, quando quella voce inconfondibile ha cominciato a parlare al suo cuore, è arrivata l'emozione. Il giovane pesarese, nelle settimane scorse, aveva scritto una lettera proprio a Papa Francesco, confidando la propria disperazione per una lunga serie di tragici eventi che nel tempo ha colpito la sua famiglia. A partire da lui costretto sulla sedia a rotelle per un incidente stradale e per ultimo l'omicidio del fratello Andrea, ucciso con cinque colpi di pistola a 51 anni nel giugno scorso. Per me è stato un segno che ci ha voluto dare mio fratello Andrea alla nostra famiglia per darci un po' di speranza, di coraggio per affrontare questa tragedia. Sicuramente c'è stato lui che ha fatto in modo che il Papa ricevesse questa lettera e ci chiamasse. Papa Francesco ha voluto salutare e dare conforto anche alla mamma di Michele, abbracciando idealmente una famiglia che grazie ad un gesto piccolo, semplice e inatteso ha recuperato le speranze per andare avanti. I contenuti della telefonata Michele preferisce custodirli nel suo cuore, ma la gioia di questo incontro speciale l'ha trasmessa a tutti. Mi hanno chiamato diverse persone appunto piangendo in lacrime dopo aver saputo questa notizia. È stata quindi un'emozione, ancora adesso è un'emozione grandissima.